Dopo aver ironizzato su Telemeloni, Giorgia Meloni ha parlato alla Sette e in particolare ai suoi telespettatori in vista delle elezioni europee dell'Otto e Nove G. Dopo aver ironizzato su Telemeloni, Giorgia Meloni ha parlato alla Sette e in particolare ai suoi telespettatori in vista delle elezioni europee dell'Otto e Nove G. Cari telespettatori della Sette, è da un po' che non ci si vede, dichiara Meloni nel videomessaggio pubblicato anche sui social. Spero di trovarvi rincorati per lo scampato pericolo dei cari telespettatori della Sette, è da un po' che non ci si vede, dichiara Meloni nel videomessaggio. Mentre molti discutevano di questi fantasmi noi lavoravamo senza sosta, per migliorare le condizioni dell'Italia, Meloni ha poi elencato i risultati conseguiti dal suo esecutivo e Parlam. Mentre molti discutevano di questi fantasmi noi lavoravamo senza sosta, per migliorare le condizioni dell'Italia, Meloni ha poi elencato i risultati conseguiti dal suo esecutivo e Parlam. Mentre molti discutevano di questi, perché l'8 e 9 giugno non sono i salotti radical chic a parlare ma il popolo e quello del popolo da sempre è l'unico giudizio che ci aiutateci a cambiare l'Italia. L'8 e 9 giugno date forza a fratelli di poche ore dopo la pubblicazione del filmato è stato Corrado Formigli, giornalista e conduttore di Piazza Pulita, a rispondere a Meloni. Quel che colpisce di questo video è il stavolta la presidente del Consiglio non attacca i giornalisti del va oltre e sbeffeggia e insulta milioni di italiani che guardano la no. La premier di mezzo paese che dichiara guerra alla no. Una riflessione che si collega alle critiche che più volte formigli ha mosso a Meloni per non aver preso parte ai programmi di La 7 e in particolare al suo.